Una delle vite più frequentate della Val di Susa è certo la salita al Tabor. Si parte dal refugio detto dei Re Magi, sopra Barbaricchia. Vista da qui, la vetta appare davvero lontana. Il cartello indica 5 ore, ma in verità un normale escruzionista sarà giù in 4 ore, e dunque non scoraggiatevi. Il nome del refugio Tre Re Magi è dovuto alla posizione. Infatti qui vicino si ergono le vette denominate Gaspare, Mediote e Alta Sole. Grazie a tutti. Questa è la prospestra, abbiamo la Rose del Charbonnet, che ha una sua caratteristica poco conosciuta. È infatti il punto più occidentale di tutta Italia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.